Il Signore ci aiuti nella lotta di tutti i giorni contro il diavolo, ma non per noi, per il servizio, perché voi siete uomini e donne di servizio alla società, agli altri, per far crescere la bontà nel mondo. Così Papa Francesco, nella messa per il corpo della gendarmeria dello Stato della città del Vaticano, che ha da poco festeggiato il proprio santo patrono San Michele, celebrata questa mattina nella cappella del governatorato. Il Papa ha ricordato la guerra degli angeli di Dio, comandati da San Michele contro Satana, una guerra che si fa ogni giorno nel cuore degli uomini e delle donne, nel cuore dei cristiani e dei non cristiani, la guerra fra il bene e il male. E il demonio semina insidie e seduce, ci tenta come Gesù nel deserto con la promessa di ricchezze, la vanità e il potere. Voi che lavorate, avete un lavoro un po' difficile, dove sempre ci sono contrasti e dovete mettere le cose al suo posto e evitare tante volte reati o delitti, ma pregate tanto, perché il Signore, con l'intercessione di San Michele al Cangelo, vi difenda, vi difenda di ogni tentazione, di ogni tentazione, di corruzione per il denaro, per le ricchezze, di vanità e di superbia. E quanto più umile, quanto più umile è il vostro servizio, più fecondo e più utile sarà per tutti noi.